Ciao a tutti, Giuliolla e io, siamo qui con pranzo ufficio per ringraziarli della donazione di 100 franc che ci hanno fatto per questo della quarta ruota che compreremo appena finiamo la raccolta. Chiamate il numeretto qua sotto che dopo metterò sul video, questo è il loro loghino, se siete di Bellinzona e tu dove vivi? Da Castione a Cadenazzo. Cucina naturale, sana, senza derivati animali, direttamente in un fito, giusto? E come consegnate? Consegniamo in maniera ecologica in città, in centro, con le corriere per il video. Invece zone limitrofe ancora con l'automobile ma presto, speriamo presto, arriverà un'autoeleptica. Ottimo, ciao!